Che bella l'armatura dell'Otocaron Hai capito? Che figata, è bellissima Anche perché io di molte non sono stato a guardare le abilità Non mi piacevano Più che altro sono quelle enormi che proprio non mi fanno un po' cagare Allora, ah intanto le faccio anche la cotta per i... qui Eh ma... anche la serie della legge... anche la legiana Mi ricordo un po' un'armatura di... Ok Ok Mi mangio qualcosa Scusa Ho usato l'ultimo bobo Scusa, lo userò magari con la legge Sì, scusami, lo magari Eh sì, visto che ora comunque do di fargli l'armatura e l'arma della legge C'è troppa roba da fare E ce ne lo sa, non fa peggio No, 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 non è vero Perché ho dovuto comprare un'operante e io mi conosco Sto ore soltanto a farmi queste cose Non vado avanti nel gioco Ma io adesso vado avanti Dentississimissimissimissim Perché ora vedi, ho visto Ok, c'è la legiana Vedi, facciamoci l'armatura della legge Ah, io anche sono così Guarda, il primo mostro che ho visto adesso un po' più nuovo Mi sono messo lì 20 missioni Non ho fatto l'armatura 99 quasi ah, provato ok eh, anche a me mi dava l'altro lato ma porca troni, si vanno da anche a me adesso chissà perchè sti cazzo di service prima mi faceva andare da una parte e poi dall'altra oh, ok dai resta lì in salita che ti sistemo io ahia ahia però mollami, mollami no ma viene da me eh, maledetta ma sono ricoglioni nooo dai dai maledetto non mi puoi fare questo dai, abbassare l'interno ok ah, guarda te se... la mia vendetta sarà grande la mia vendetta sarà grande eh, lì si cazzo stai fermo nooo niente, c'era con me mi allontano un attimo voglio fare una trappola faccio una trappola così lo meniamo un po' qua ha aperto uno eh l'abbiamo fatto male qui c'è il residuo no 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 ho messo per sbaglio la trappola oddio che fastidio perchè deve che c'è una parte Sì, mi sembrava vedere una cosa che deve essere utile, però un attimo muscolo di rimasto. Eccolo. 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 qualcuno ha altre trappole? io non ne posso più fare creazioni oh no, c'è l'aria 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 Grazie. Sta zappicando. Sì, sta zappicando. Sì, sì, sta male male ora. Ha fatto un altro giro? Sì. Sì, ora c'è il tezchietto che sta morando. Sì. Che è nata? Sì. 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 completare l'armatura sì solo che quella prima del gran giros l'avevo potenziata al massimo porca miseria speso tutti i punti armatura che avevo grazie a tutti